Facciamo una challenge, andiamo nella vasca, ci mettiamo tutti e due nella vasca Gelila, cioè piena d'acqua, gelila E il primo che esce perde, quindi l'ultimo che rimane dentro la vasca vince l'iPhone Quindi se vinco io Bona mi tengo l'iPhone, se vinci tu te lo regalo 3, 2, io entro tutte assieme almeno Oh devi entrare subito perché sennò io sto più tempo di te Sì, sì, sì Entro subito, almeno soffro di me Ah, il cavolo, no, non entro subito, anzi devo pensare Buon day, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo al 10 dicembre Stiamo dicendo, siamo al 10 dicembre, siamo con la seconda settimana, oggi è lunedì E siamo sì, con la seconda settimana dei video giornalieri Sì, riuscirò a dirlo, riuscirò a fare questo intro Sì, allora ragazzi, il video che faremo oggi comprometterà la mia salute Perché io già, se non so se sentite dalla voce ma sono raffreddato stamattina Avevo la febbre, però non ci ferma niente, io lascerei solo un mi piace Perché dovreste sentirvi un pochino in colpa Perché io ho la febbre, però registro lo stesso Ovviamente sto scherzando Però lasciate un mi piace davvero Commentate con hashtag nuovo iscritto se vi state per iscrivere In questo momento vi darò il benvenuto personalmente Ovviamente mettendo un cuoricino come faccio sempre Come al solito mi berrò il mio cafferino Prima di iniziare questo video Poi mi darò una spuntatina al barbo perché mi sta crescendo Anche se non sono tanto capace, vedrete che sono Cioè, sono impedito a farmi la barba Infatti mi taglio sempre, mi viene irritazione ovunque Quindi ora mi bevo il caffè, mi faccio la barba E poi inizieremo il video di oggi Che sarà un video speciale Un video particolare E se vi dovesse piacere questo tipo di video Inizierò una serie che si chiamerà appunto L'ultimo che vince qualcosa Quindi faremo delle challenge Lo farò oggi, lo farò con mia sorella Magari la prossima volta lo farò con qualcun altro E quindi sarà questa serie, ecco E' arrivato Babbo Natale Non resta un Babbo Natale così che vi porto i regali, eh Nella regia mi dicono che ho messo troppa schiuma Non sono capace, non sono capace a farmi la barba Non so se che sembra un Babbo Natale Oppure, chi sembra? Giuseppe Barbuto Nel vero senso della parola Indovina che si taglia Ecco Non sono capace Sono bellini senza barba Ecco la mia sorellina Ormai è protagonista dei miei video Ultimamente, sempre nei miei video Ovviamente sempre con la felpa Petacolo Trovate il link in descrizione Mi raccomando In descrizione, primo commento C'è anche lo sconto Guardate che bella Ci sono di tutti i colori Allora Marti, oggi facciamo una challenge Io metto in palio il mio nuovo iPhone Quello che ho appena comprato Ok, lo metto in palio Facciamo una challenge Andiamo nella vasca Ci mettiamo tutti e due nella vasca Gelida Cioè, piena d'acqua Gelida Sì E il primo che esce perde Quindi l'ultimo che rimane dentro la vasca Vince l'iPhone Quindi se vinco io Buona mi tengo l'iPhone Se vinci tu te lo regalo Ci stai? Dai, non ci perdi nulla Ok Andiamo a fare questa challenge Ok, intanto che mia sorella si cambia Prendiamo la vasca Ovviamente acqua gelida Deve essere gelida Perché se no non avrebbe senso Cioè, vi immaginate Riempiamo la vasca Con l'acqua calda Io ci starei anche un'ora Dentro la vasca Quindi deve essere gelida E chi resiste più tempo Vince Ok, la vasca è piena Ed è gelatissima Ve lo assicuro Marti si carica? Dai Siamo pronti per entrare in questa freddissima vasca Mi raccomando lasciate un mi piace se volete che questa serie continui Ci siamo 3, 2 Io entro tutte assieme almeno Oh, devi entrare subito Perché se no io sto più giù un po' di te Sì, sì Entro subito Almeno soffro di meno Il cavolo Non è che subito Non si devo per farlo Respiro No, Giuseppe, stai scherzando No, Giuseppe, è gelata Ma che è? No 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 No, non è che non è che Muoviti E se no io sto per te Dai, no, Giuseppe No, Giuseppe Muoviti È gelata No, Giuseppe Ok Dai, muoviti dentro, dentro No, no Mancia 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 No Guarda, c'è l'acqua No, cavolo Mi sa che l'ho riempita troppo No, non ce l'ho fatto, Giuseppe Oh, devi infilarti di più, Marti Viva Dai Guarda, tremo 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 E tremo E chi sto tremando? No, chiuso No, giù Io ho i discori No, no, devi resistere Se vuoi l'iPhone Ti sei neanche l'iPhone Guarda, che potenza è mia No, devi infilarti di più, Marti Così non vale No, dai Ma stiamo facendo un po' d'acqua Guarda, giusto No, ci stiamo E appunto A vera con una gamba Ok, invece io mi sto avvicinando Io no Per modo di dire No, raga E poi io soffro un volto Freddo, sono già malato Ma perché hai aperto a Roma? No, perché l'acqua è troppo alto e sta scendendo Oh, oh, oh Giuseppe Cosa? Scappa la pipì? Eh? Eh, io non esco Ti pare che ti do la con una faccia dentro Magari si scalla La stai scherzando? Sì, adesso la faccio Giuseppe Giuseppe La faccio? No Io e Irma La faccio? No Aspetta La sto per fare Ma no La sto per fare No Oh, 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 oddio Oddio E poi Chi ha vinto la gara? Fammi uscire Ma non era vero che mi sta parlando Non domina chi ha vinto la gara? Ma stai scherzando? No, è freddissima È freddissima Eh, vaci dentro No, sa fai no Vai, dai, devo uscire Eh, esci Ho vinto Chi è il campione? Il campione, il campione Allora ragazzi Mi spiace Martina Ti ho fregata in pieno Infatti voglio bene Fate tanti screen E ripostateli su Instagram Con hashtag Cattelli barbuto Quindi l'iPhone Per fortuna Rimane mio Anche perché ce l'ho da un giorno Però sono stato furbo Ma tanto Anche se non avessi fatto Il furbo Si sapeva che avrei vinto io Però stavo gelando Ma stavo gelando Poi stavo morendo Perché sono malato E quindi dovevo trovare una scusa Per farlo uscire subito In realtà Me ne ero già pensato da prima Chi è Aaron? Chi è Aaron? Il mio ragno Cioè lei è il mio ragno Lì è il mio ragno Allora dovete sapere che io Non so se non si vede Ha un i ragni Forse si No non si vede Va bene Si lei ama i ragni Guarda che la telecamera scarica E tutti i ragni li chiamarono Ok Va bene Va bene Comunque se vi è piaciuto il video Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate con hashtag Fino alla fine Se siete veri fan E avete visto fino Il video fino a questo punto Io vi mando un bacio Ci vediamo domani con un altro video Perché ogni giorno esce un nuovo video Fino al 24 dicembre Ciao Che petacolo Ciao belli E' più scarsa Marta Sei proprio scarsa Grazie che non puoi centrarmi le mani Ciao Ciao Ciao